Riesce a vedere la tartaruga, Mandy? Non ancora, Norman! Aspetta un momento! Quello cos'è? Sì, credo di averla avvistata! Da quella parte! È una tartaruga, Newton! È davvero straordinaria! È sicuro di non voler dare un'occhiata, signora? Oh no, Sam! Devo continuare a guardare dritto davanti a me! Ho lo stomaco un po' sottosopra! Io l'avevo avvertita che il mare sarebbe stato agitato, signore! Non credo che dipenda da questo, Sam! Io sono un marinaio nato, te l'ho detto! Deve essere la pasta con il pollo di Cridlington che ho mangiato prima! Certo, capisco! Molto bene! Non ci resta che accendere la videocamera! Ecco fatto! Ora gliel'attacchiamo bene sul dorso e... abbiamo finito! Aspetta! Controlo il segnale! Il panorama è davvero splendido! Devo guardare dritto il mio povero stomaco! Sì, ottimo! Funziona tutto a meraviglia! Perfetto, Sam! Ora libero la tartaruga ed è fatta! Possiamo tornarcene a casa? Sì, signore! Immediatamente! Non ce la faccio più! Ho le bracciando lenzite! Certo di resistere qui da qualche parte! Eccola! Questa non sembra una tartaruga, Mandy! Sono delle semplici comuni alghe! Torniamo a casa, per favore! No, Norman! Se non fosse stato per te, ora saremo su Napton insieme a Sam e l'avremo già vista! Continua a remare! Devo trovarla! Le onde si sono ingrossate! Il mare è troppo agitato! È pericoloso restare qui! Torniamo indietro! A dire il vero, non so da che parte si torna indietro! Eccola! Vedo la tartaruga! Rema da quella parte, Norman! Non vedo l'ora di vederla! Oh! È un piacere essere di nuovo sulla terraferma! La pasta con il pollo non le dà più fastidio? No, ora va meglio, Sam! Va molto meglio! Devo solo riuscire a trovare la frequenza giusta e poi riusciremo a vedere quello che fa la tartaruga! È sorprendente, Ben! Oh, santo cielo! La nostra tartaruga? Fa un po' troppo su e giù per i miei gusti! Di nuovo la pasta con il pollo? Vado un attimo fuori a prendere... Una boccata d'aria! Pompiere! Cosa? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piccola piattaforma in fiamme? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piattaforma in fiamme! Ben, tu piloterai Titan! Elvis e Penny, voi vi occuperete degli idranti! Io prenderò Juno! Oh, no! Meglio tu sparsi in mare! Ho raggiunto la piattaforma, Ben! Ma qui non c'è traccia di Mike! Forse si è gettato in mare, Sam! Hai ragione, lo cerco! Posiziono la nave! Penny, Elvis, puntate gli idranti! Aiuto! Guarda qui! Aiuto! Oh! Dio fischietto! Aiuto! Sto arrivando, Mike! Sam! Il carico su! Forza! Ottimo lavoro, Ben! Grazie, Bronwyn! Mi dispiace per i tuoi fuochi d'artificio, Mike. Oh, è stata tutta colpa mia! Avrei dovuto fare più attenzione con il detonatore! Beh, oggi il mare era piuttosto agitato, Mike. Forza tre, probabilmente. Un momento! Vuol dire che non ci saranno i fuochi d'artificio, Mike! Ho paura di no, James! Nessuno potrà ammirare il mio mare in fiamme! Non ne sono sicuro, Mike. Forse posso aiutarti. Se adesso usciamo in mare aperto con Titan... Oh, grazie, adoro il bastoncino di pesce. Anche tu ne vai matto, Trevor. Prima di tutto, la piccola anguilla blu entra nel buco. Dovresti fare gli onori di casa, Sam. Volentieri, signore. Un momento d'attenzione, per favore. Oh, chissà cosa sta per succedere. Ora dichiaro ufficialmente aperto il nuovo centro di soccorso e salvataggio in mare... di Ponti Pandi! Sì! Sì! E inizi lo spettacolo! Rispondi, Sam! Rispondi, Ben! Ora la luce si vede molto chiaramente in mare aperto. Passo! Ricevuto! Ottimo, Penny! Sei davvero in gamba! Passo! Oh! Grazie del complimento! Grazie, Ben! Anche tu non sei male! D'accordo, passo e ti sposo! Voglio dire... Passo e chiudo! Non ci vedo! Immagino che dovrò rifare da capo tutte le scale. Guarda, James! Finalmente siamo arrivati alla roccia a forma di naso aquilino! Non sarebbe meglio tornare indietro? No! Te l'ho detto! I cacciatori di tesori non si arrendono mai! Norman! Da questa parte! Dove sei? Non riesco a vederti! Norman! James! Venite a pranzo! Oh! Sono scomparsi! Dispersi nella nebbia! Il mio Norman! Non ti preoccupare, Dillis! Non possono essere andati lontano! Vado a cercarli, va bene? Rispondi, Sam! Rispondi, Ben! Una nebbia fitta si sta alzando da ovest! Passo! Ricevuto! Puoi attivare la sirena d'allarme per la nebbia? Ah! Le mie orecchie! Oh! Lo so... Devo scendere... Di nuovo! La sirena funziona perfettamente! Deve essere la nave fantasma di Ponti Pandi Pinto! Sta lontano da me! Non mi fai paura! Ah! Deve essere lo spettro di Ponti Pandi Pinto! È qui perché vuole proteggere il suo tesoro! Voglio tornare a casa! Fa che trovi il sentiero e non lo spettro del pirata! James? Sei tu, vero? Papà! Devi aiutarmi! Norman si è perso nella nebbia! L'ho cercato ma non lo trovo! Norman! Mi senti? Ora torniamo sulla barca, James! La cosa migliore da fare è chiamare Sammy il pompiere! Chi mi assicura che arriveranno in tempo? Sì! Impiegheremo un bel po' di tempo per raggiungere la costa e dovremo prendere Jupiter per arrivare fino al ponte della ferrovia! Mi è appena venuta un'idea! Rispondi, Tom! C'è un'emergenza sul ponte della ferrovia! Abbiamo bisogno di te! Ricevuto! Ora ci sarà estremamente utile la pratica che hai fatto con il sonar, Elvis! Visto che risaliremo con Titan il fiume di Ponti Panni! Bessie! Meravigliosa macchina! Ecco fatto! Di nuovo insieme come ai bei vecchi tempi! Andiamo! Aspettami, Sam! Sto arrivando! Portatela, vieni fuori! Non riesco a prenderlo! E ora che facciamo? Dovremmo sbregarci a spegnere l'incendio, cara Bessie! I tuoi serbatoi non sono così capienti! Guarda, James! È arrivato il Capitano Steel! Attenzione! Rocce a quattro gradi e tribordo! Guardate! Oh no! Sto venendo a prendervi! Tenaglia! Oh no! Tenaglia! Lei porti i ragazzi al sicuro, signore! Penserò io a Tenaglia! Tenaglia! Ottimo lavoro, signore! Ha lottato contro le fiamme in modo impeccabile! Beh, ti ringrazio, Sam! È stato sicuramente più entusiasmante che contare le graffette! Bene! A questo punto è rimasto solo un rapporto! Attenzione, Elvis! Non preoccuparti, Sam! So dove metto i piedi! Dovrò prendere una scatola nuova! E io dovrò lavare il pavimento! Capitano Steel! È da tanto che sta remando e noi non siamo ancora arrivati da nessuna parte! Ciocche c'è! Abbiamo percorso molte miglia! Ma io vedo ancora il molo! È tutta colpa dei remi! Non funzionano come dovrebbero! E se permette proverei io? Lei passi a sinistra e io a destra! No, lei a destra e io a sinistra! Lei passi a sinistra mentre io passerò a destra! Faccia attenzione, Capitano Steel! Non ti preoccupare! Sono fermo e stabile come una montagna! Sto bene! Sapete, un tempo ero capitano della squadra di canottaggio di Ponti Pandi! Dici sul serio, nonno? Bello! Beh, io invece sono un membro della squadra di birdwatching di Ponti Pandi! E sono riuscito ad avvistare perfino... ...un falco pellegrino la settimana scorsa! Dici sul serio! Dove? Possiamo vederlo anche noi? Eh, sì, sì, certo! Perché no? Eh, da quella parte! State tranquilli, ragazzi! Ci arriveremo in men che non si dica! Oh! Nonno è davvero il numero uno! Dove siamo finiti? E dov'è il falco pellegrino? Forse sarebbe meglio tornare indietro! Stai iniziando a fare buio! No, 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 no! Non possiamo tornare indietro! Ci sono tante cose divertenti da fare! Per esempio... Conosco una caverna segreta! Io conosco una laguna segreta! E io ho un posticino perfetto per fare un picnic! E io conosco un posto ideale per pescare! Per caso qualcuno sa che cos'è questo rumore? Oh, soltocielo! La cascata! E ci stiamo finendo dritti dentro! Oh! Inizio a preoccuparmi! La barca a remi dovrebbe essere rientrata! Capitano Steel! Riesce a sentirmi? Dirmi? Garrett! Garrett! Deve essere successo qualcosa! Chiamo subito a Sammy il pompiere! Se non si vede la costa di Pontipandi Scrutto il cielo in cerca di luci Guardate! Stanno arrivando! Cosa? Le luci che ci riporteranno a casa! Ehi! Siamo qui! Aiuto! Siamo qui! Riesci a vederli, Tom? No, niente finora, Sam! Penny! Il sonar di Neptune è in grado di localizzare la barca di Charlie? No, Sam! Ho paura che sia troppo piccola! Ma una balena è grande! E se mio fratello è il bravo pescatore che conosco, si sarà sicuramente avvicinato a una balena! Sam, allora tengo d'occhio il sonar! Per adesso ancora niente! Un momento! Vedo una sagoma! Sì, sembra una balena! Quattro gradi a sud! Hai sentito, Tom? Ti vengo incontro! La balena è proprio di fronte a me! Non possono essere lontani! Ti ho trovati, Tom! Come state? Tutto bene? Sì, Sam! Siamo un po' intirizziti, ma stiamo bene! Coraggio! Saltate tutti a bordo di Neptune! Sai, Charlie, devo ammettere che sei stato fantastico! Perché? Non ho fatto niente, a parte insegnarvi il canto marineresco! In caso di emergenza, rassicurare le persone e mantenere la calma è la cosa più importante da fare! Mi dispiace che non hai registrato il canto delle balene, Browin! Non importa! Mi è rimasta in testa la canzone marineresca di Pontipandi! Non riesco a smettere di cantarla! È quella che ci aveva insegnato il nonno, Charlie! Sì! Non te la sarai mica dimenticata! Se non si vede la costa di Pontipandi, scruto il cielo in cerca di luci, perché ho navigato con vento e tormente, ma presto sarò a casa, se mi avvino la mente! Ah, l'hai cantata proprio come la cantava il nonno, Sam! Ha, 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 ha! Oh, ma guarda! Sono il primo a salire sulla scala! Spostati, Norman! Fammi passare avanti! Niente affatto, Derek! Scordatelo! Uno alla volta, per favore! Eccomi! Sono il primo! Ora tocca a voi! Non fate come loro! Dovete salire ordinatamente! Capito? Cridlington! Cosa stai facendo? Appeso lassù! Sono bloccato, signore! Sì, è vero! Non si preoccupi, Capitano Steele! Ora cercheremo di riportarlo giù! Non è niente di grave! Il cavo deve essere uscito dal binario, signore! D'accordo, Sam! Dovevate salvare Dolly, non salvarvi a vicenda! Ecco fatto, Elvis! Eri preoccupata per me, Dolly? Sono salvo! C'è davvero un bel panorama, quassù! Non è fantastico! Si vede quasi tutta ponti-pandi! Che sta succedendo? Le travi stanno cedendo! Norman, hai stretto bene le viti nel tronco dell'albero come ti avevo detto? Sì, certo che le ho... Ecco, io... Ops! Papà! Dobbiamo cercare di bilanciare il peso! Norman, cerca di non muoverti! Devi restare al centro, per mantenerci stabili! Perché io? E non Derek! Vieni tu al centro! Sei stato il primo a salire! No, non è vero! Sei stato tu a salire per prima! Ora basta! Smettetela voi due! Non si deve muovere nessuno, altrimenti rischiamo di precipitare giù! Non mi sono mai piaciute le casette sugli alberi! Oh, santo cielo! Cosa possiamo fare? A questo punto c'è solo una cosa da fare! Aiuto! Aiuto! Venite a salvarci!